Allora signori benvenuti qua per vedere un poco come si fa il cappio, il capestro magari che lo chiamano pure così. Voi dite che ci vuole, mi basta una corda metti intorno cosa hai fatto, no? Cioè ci vuole l'arte. Allora questa è una corda di canapa un po' vecchia però può andare bene e bene come semplice, è bella lunga c'è l'ottomale di Mondizio e bella lunga. Allora vediamo un po' come procedere andiamolo in piccola. Allora pigliate questa parte qua, vedete? Poi la si ridimensiona man mano. Fate dei giri così, metteteci un paio di da dentro. Se no continuate così. Una volta che si sta vedendo, una volta che si è, come si chiama, fatta questa specie di spirale, non so se si vede qua, non so se si vede, no? Poi procedete piano piano così, non vi preoccupate se fa qualche giro diecimila volte, perché tanto poi basta rigirarla così dentro e tutte le magagne se ne vanno a quel paese, a Fukushima se ne vanno, e sino io è la che voglio andare quando le cose non mi andano più bene. Nel frattempo rimango qua. Allora, vedete? Ho fatto questa specie di spirale. La parte più in alto, la rificate qui dentro qua. Piane. La parte più in alto, vedete? La rificate e andate a acchiappare questo pezzo qua, che fa il cerchio. Per tutto l'ho bisogno di insegnando. Un po' di più. Vedete? Poi ce l'ha rificcata un'altra volta, ci fate il piccolo cappio intorno al grosso cappio. Ce l'ha rificcata dentro, in modo che riesca di nuovo qui fuori. Io non c'è trucco, non c'è inganna. Ora, vedete? Bene o male è così. Ora bisogna solo stringere al meglio, in modo che non se ne scivoli e l'impiccato si salva. Allora, vediamo come può cedere. Questo parte da qua e fa così. Allora, questo fatelo un po' più su possibile. Ecco qua. Allora, lo passate. Oh, non lo fate a casa. Allora, lo passate così. Vedete? Lo rigirate in modo che si incastri per bene. rigiratelo, rigiratelo per le volte così, in modo che questo qua, così, vedete? In modo che si stringa il più possibile. Spero che sia andato venendo giusto. Ecco qua. Questa parte deve essere a scorsoio, a scorsoio, solitamente qui per fare le esecuzioni ci mettete un po' di grasso, un pezzo di sapone, in modo che scivolava il più possibile intorno al collo del condannato. Eccolo qua. Lo so, dicevate, prendi una cosa qua, facci una nuota a costruire, hai fatto subito, ma non c'è arte per quello. Invece così sì. Anche se qui non può sembrare non tanto solido, fidatevi che funziona. Come ho detto, stringete il più possibile queste cose qua, vedete? Più li stringete e più vi dura. Ecco qua. Veramente farebbe comodo avere un piccolo nodo all'incima della corda, ma io ho trovato così può andare benissimo. Poi voi saprete sicuramente fare di meglio. Ecco qua. Ora ci vuole soltanto una cavia. Comunque guarda la signoria, l'avevo già fatto prima, l'avevo già fatto una prova prima. Li possiamo fare tanti. Ora stacchiamo un attimo, vediamo un po' com'è venuto. Si è staccato, manco per il cavo. Quello è un altro esperimento che devo far vedere dopo. Eccoci qua per determinare la fine della femminista tossica. C'è quell'innocente. Fatela prendere con qualche scienziato con un scepo che sta su internet. Sa chi lo mangia la palletta? Sa chi lo che sta, sa il mio capo? Copponato pianeta. Piggitela con loro. No, me la piglierò con te, femminista tossica. Sei pronta a pensolare come un caciocavallo? Eh, mo ci vorrebbe la musica di Ernia Molliconi. Con pure la fisarmonica in bocca. Io, se ci riesco. Deve essere buono, eh? Pronti? Attenso. Via! Vabbè Vabbè si è nata, si è visto che funziona sta roba. Tanti saluti! Stacca? Non si stacca? Oh da Omar! Che cazzo? Vi metto il link delle scene di implicazione in descrizione.